Emozioniamoci, vinciamo la partita contro il bullismo. Questo è il titolo del convegno che si è tenuto questa mattina al Teate Center di Chieti. Una tematica quella del contrasto al fenomeno del bullismo da diversi anni sotto l'attenta lente di ingrandimento di scuola, istituzioni e mondo dello sport e che investe a tutto tondo le dinamiche sociali ed educative legate alle nuove generazioni dove spiccono ancora oggi, specie tra i giovani e i giovanissimi, casi di marginalizzazione, discriminazione e sofferenza. Il dibattito è stato organizzato dall'area comunicazione della Chieti Basket 1974. Parlare oggi di bullismo associato allo sport assume un grande valore perché il binomio sport e lotta contro il bullismo ha una caratura più importante di quanto si possa pensare. Lo sport è un veicolo di grande libertà, di grande aggregazione ma insegna le regole, insegna la disciplina per cui può essere ambivalente nel senso che può diventare molto utile per far uscire dal senso di isolamento chi è vittima di bullismo ma può essere anche utile per impartire quelle regole, quella disciplina affinché si generino meno bulli possibili perché se sei impegnato nello sport difficilmente nella vita poi diventi una persona negativa perché come dico sempre io da tennista internazionale in quei campi dove entro per disputare le partite più importanti del mondo porto ciò che sono fuori per cui non può essere un bravo giocatore se al di fuori non ti dai in qualche modo delle regole di disciplina e di civiltà che sono poi quelle fondamentali per non diventare una persona negativa e dannosa nei confronti degli altri. Questo evento fa parte di Chieti Basket for Children per sensibilizzare un concetto fondamentale che allenare il fisico non basta ma bisogna anche impartire discipline, regole e soprattutto fare in modo che i ragazzi socializzino tra di loro ed imparino a stare insieme ad aiutarsi. Il basket si gioca solo in cinque persone. I termini aiuto nel mismatch sono termini che servono proprio a questo cioè a far capire che magari se ci si aiuta tutti quanti insieme in partita e non solo quindi è più facile vincere.